Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video, oggi super recensione della nuova Dav Mousse Doccia al cocco e sì, olio di cocco. Allora, perché mi piace questa mousse doccia che in realtà non è altro che un bagno schiuma che non va a seccare ma neanche a ungere? Mi piace per diversi motivi. La prima è che io ho una pelle grassa e con la mousse, in questo caso, spalmo l'olio di cocco sul mio corpo ma non mi va ad ungere troppo la pelle la idrata, la lascia morbida, quindi secondo me non ci sarebbe neanche poi bisogno di usare la crema idratante però è davvero super 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 perché non mi va ad ungere la zona. Chi come me ha la pelle grassa anche sul corpo saprà bene quanto è fastidioso utilizzare i prodotti e vedere uscire i brufoletti. Quindi in questo caso mi piace molto perché contiene olio di cocco ma non va ad ungermi troppo la pelle. Lascia la pelle super super morbida ha una profumazione che è veramente pazzesca, non è però troppo invadente. Vi dico già che io le profumazioni troppo forti che danno il mal di testa non le sopporto perché sono molto sensibile a questi odori e niente mi piace moltissimo. D'altro dire, non ho molto da dire in più, nel senso che è un bagno schiuma però mi piace molto il fatto che DAV se ne sia uscito con questi bagno schiuma mousse doccia perché mi piacciono molto. Non so che altre fragranze ci sono ma se ce ne sono altre le proverò. Rimango sempre devota e fedele a quello, non so se avete presente i bagno schiuma, quelli proprio della DAV classici al cetriolo perché mi piacciono tantissimo. Questo qua devo dire che mi ha colpita non gli avrei dato un euro, però visto che mi è capitato sotto mano l'ho voluto provare e devo dire che invece mi ha stupita in positivo. Quindi se vi piace l'olio di cocco, se vi piace però un bagno schiuma che sia sì, idratante ma che non vi vada a ungere, vi consiglio questo qua della DAV soprattutto se ripeto come me avete la pelle grassa. E niente questo è tutto, spero di essere stata utile, un bacione!